Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione web della città, buon venerdì 27 aprile, una bella giornata di sole questa di oggi qui a Torino, una giornata di sole che è destinata a continuare anche per il pomeriggio e il cielo sereno si protrarrà anche per la serata. Oggi le massime previste sono intorno ai 20 gradi circa, per quanto riguarda domani sabato avremo cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, un po' di pioggia è possibile in serata intorno alle 20, una pioggia che purtroppo invece ci accompagnerà per tutta quanta la giornata di domenica, almeno stando alle previsioni attuali, temporali che si manifesteranno nel pomeriggio e soprattutto una pioggia che arriverà pesante nel corso della giornata di lunedì, ma per il momento insomma godiamoci questo sole di questo venerdì. Vediamo qualche notizia di viabilità, vi segnalo poche cose, questo pomeriggio dalle 17 alle 19 in via San Bernardino ci sarà una manifestazione in strada da parte dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e poi i controlli con autovelox per la giornata di oggi che sono a dire il vero parecchi, li trovate sui corsi Grosseto, Moncalieri, Tazzoli, Orbassano, Cosenza, Siracusa, Galilio, Ferraris, Allamano e Vercelli, in lungostura Lazio, in strada dell'aeroporto, strada del Drosso, strada Druento, nelle vie Nizza, Madama Cristina, Pietro Cossa, Sansovino, Botticelli, Pio VII, Onorato, Vigliani e Inviale, Agudio. Fino a domani, sabato, troverete anche i controlli con telecamera, nelle vie Napione, Vanchiglia, Madama Cristina, Valperga, Caluso, Ormea e su Corso Belgio e Corso Dante. Vediamo adesso alcune notizie che abbiamo estrapolato dalla prima pagina del sito della città, la prima riguarda il Torino Jazz Festival, come sapete e come da più parti annunciato oggi è il grande giorno, comincia con due concerti, il primo alle ore 18 in Piazzale Valdofusi con Buonavista Italian Jazz e poi il secondo alle ore 21 in Piazza Castello con gli Yellow Jackets, un Torino Jazz Festival che potrete ovviamente seguire sul sito ufficiale torinojazzfestival.it che andrà avanti fino al primo di maggio. Seconda notizia riguarda invece le famiglie con un parametro ISE inferiore o uguale a 9500 euro, ebbene per loro è disponibile un bonus per la bolletta dell'acqua. Sul sito della città tra le notizie trovate tutte le informazioni per presentare la vostra richiesta sul sito della SMAT, ci sono tutti i moduli necessari. Infine chiudiamo con l'ultima notizia estratta questa volta da Torino Click, riguarda Aspettando Balloon Mondial perché in attesa della sesta edizione di Balloon Mondial comincia questa pre-manifestazione che si intitola proprio Aspettando Balloon Mondial dedicata ai paesi la Romania, la Colombia, il Perù, la Cina e il Marocco, le comunità immigrate che a partire da oggi e fino al 18 maggio presenteranno se stesse le proprie tradizioni sia sportive ma anche culinarie. Vi ricordo che si comincerà quest'oggi intorno alle 20 al Check It Point con le comunità romene e boliviane. Bene, allora dopo aver anticipato prima gli appuntamenti del Jazz Festival che vi ricordo alle 18 in piazzale Valdofusi il primo concerto, alle 21 in piazza Castello il secondo, adesso abbiamo altri appuntamenti che abbiamo selezionato per voi per questa serata. Cominciando dai libri, alle ore 18 la libreria della Copp. Ci sarà la presentazione del volume Testo Sacro e Libertà per una lettura critica del Corano edito per i tipi di Marsilio che raccoglie gli scritti per la maggior parte inediti di Nasr Abu Zaid, un intellettuale musulmano particolarmente abile nel cogliere le sfide della modernità e nel tradurle nella sua cultura. Per il cinema invece al massimo 3, questa sera alle 20.30 vi segnaliamo la proiezione in lingua originale, quindi in francese, con sottotitoli in italiano di Ascensore per il Patibolo, thriller del 1957 diretto da Louis Mal, il cui tema è, il tema caro a tanti thriller, quello del delitto perfetto. Passando al teatro, una produzione del Teatro della Caduta va in scena questa sera al Teatro Gobetti per la stagione dello stabile alle 20.45, si tratta di Madame Bovary, liberamente ispirato al Madame Bovary di Gustave Flaubert, uno spettacolo scritto e interpretato da Lorena Senestro per la regia di Massimo Betti Berlin e Marco Bianchini, i biglietti sono a 18.25 euro. E infine chiudiamo con la musica, a parte il jazz, questa sera al Folklub alle 21.30 ci sarà il concerto di Paolo Tofani, un componente della band Progressive Italiana che ha fatto successo negli anni 70, degli area di Demetrio Stratos, quello di questa sera è proprio un omaggio di Tofani all'amico Stratos, a supportarlo ci sarà la voce dell'apprezzato vocalist René Miri, i biglietti sono a 18 euro, l'ingresso come detto è alle 21.30. Bene, tutto per quest'oggi, allora grazie a Paolo Mosso per la messa in onda del giornale, a tutti voi un grazie ovviamente per averci seguiti, l'appuntamento è a lunedì con la nostra prima edizione della settimana di Torino Web News, a me non resta che augurarvi una buona giornata. Grazie a tutti!